fondamentale per il discorso che stiamo facendo, a mio parere, è il tema degli eventi. Un po' scherzando e un po' no, possiamo dire che gli eventi di oggi non sono più quelli di una volta. Tutti ricordiamo le idee, le iniziative, la scelta di cultura politica, di politica culturale che fece Renato Nicolini, l'assessore alla cultura del Comune di Roma negli anni 70, attraverso l'estate romana, in cui chiamò fuori dalle case la gente e queste persone andavano tutti insieme al cinema all'aperto, tutti insieme a teatro all'aperto, tutti insieme a seguire festival di poesia all'aperto. Questo modello poi è cambiato, è stato copiato da tutte le città italiane praticamente ed ha prevalso un modello più legato a uno spirito commerciale. Succede così che nei nostri esempi il Salone del Libro di Torino, come per esempio la più libri più liberi a Roma, sono delle realtà culturali e commerciali allo stesso tempo, mentre per il Festival di Sarzana e quello di Mantua prevale l'aspetto culturale. Entrambe però misurano il loro successo su una categoria comune, facilmente misurabile da tutti, e cioè l'accesso del pubblico. Cioè tutte queste iniziative culturali sono in mano teoricamente alle persone, al pubblico. Più gente c'è e più sembra che siano venute bene. Questa cosa è una piccola ossessione che questa crisi del coronavirus può modificare portando a delle opportunità nuove e più favorevoli per il libro. Perché? Perché tutte queste iniziative hanno avuto il pregio di promuovere un po' il libro e la lettura, ma certamente non hanno allargato la base dei lettori. Pertanto per un domani si potrebbe pensare di spostare queste iniziative che sono al chiuso, tutte portarle all'aperto recuperando spazi cittadini, a Roma è particolarmente facile, da Massenzi a Piazza Namuna eccetera, recuperando spazi cittadini e recuperando un tempo che è quello della sera estiva dell'estate in cui le persone possono stare distanziate all'aperto, magari consumare qualcosa e consumare cultura, ovvero fruire della cultura. Questo è decisivo secondo me e potrebbe essere molto utile per il futuro, magari con l'aggiunta di alcune idee. Un festival di soli scrittori e scrittrici esordienti sarebbe una delle tante possibilità che possono venire in mente in questo contesto e si alleggerirebbe di molto alla pressione anche i problemi legati alla sicurezza. Grazie.